Lanciano, che non dimentica, tiene vivo il ricordo delle atrocità del passato, stringe a sé i giovani per prendere consapevolezza della Shoah, delle leggi razziali, della persecuzione italiana, dei cittadini ebrei, rom, sinti, altre minoranze che hanno subito la deportazione e la prigionia. Il comune di Lanciano, Lampi, sezione Trentino Labarba, hanno così celebrato unitamente alle rappresentanze degli istituti scolastici e alle autorità religiose e civili, la cerimonia commemorativa in occasione della giornata della memoria in un luogo simbolo rappresentato dal Parco delle Memorie in via Maria Eisenstein, a pochi passi da Villa Sorge, ex campo di internamento femminile e poi campo di concentramento per oppositori politici ebrei stranieri dal 1940 al 43. Alla celebrazione hanno partecipato anche i rappresentanti della cultura rom e sinti a ricordo del Samudaripen, il genocidio che costò la vita a mezzo milione di donne, anziani e bambini. Sotto il monumento dedicato proprio al Samudaripen, il professor Santino Spinelli, rappresentante rom della piattaforma europea del Consiglio d'Europa, ha letto ai ragazzi la poesia Auschwitz in lingua romanì e in italiano. Una pagina dimenticata è quella del Samudaripen, dei Roma e i Sinti che hanno pagato un tributo altissimo di cui nessuno aveva più voluto ricordare questa tristissima vicenda. Riflessioni da conservare nel futuro dell'Italia, nella memoria viva di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro paese e in Europa e affinché simili eventi non possano mai più accadere.